Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo sostanzialmente di due argomenti, ovvero l'ondata di maltempo nel sud della Francia e nel nord Italia, che ha causato un sacco di devastazione e anche diversi morti, e le nuove misure per contrastare l'epidemia del covid, con, da un lato, il prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 gennaio e anche cosa sta succedendo negli altri paesi. Prima di cominciare, come sempre, però, vi ricordo che se vi andate sulla pagina d'assegna stampa d'Italia che cambia.org trovate tutte le notizie di cui vi parlo durante questa rassegna e anche tante altre che vi segnalo per approfondire i temi di attualità e che ci trovate anche tre modi molto semplici per seguire nel mio rassegno, che sono iscrivervi al gruppo Whatsapp, iscrivervi al gruppo Telegram oppure alla newsletter dedicata. Vabbè, cominciamo senza perdere altro tempo. Cominciamo proprio dai danni provocati dal maltempo in Francia e nel nord Italia. Avrete visto le immagini di fiumi e torrenti in piena, frane, smottamenti, che hanno provocato un sacco di danni nel sud-est della Francia, al confine con l'Italia e nel nostro paese, soprattutto in Lombardia, Piemonte e Liguria. Ci sono state auto inghiottite dalla furia delle acque o andate distrutte dal fango. Questa tempesta, che è chiamata Tempesta Alex in Francia e in Italia, Tempesta Brigitte in Germania, non ha neanche risparmiato tante abitazioni completamente devastate dal fango, con persone costrette ad evacuare dalla propria casa. Stando all'Agenzia Meteorologica Francese, in 48 ore sono caduti praticamente oltre 450 mm di pioggia che, tra le altre cose, hanno causato la morte di 9 persone, con 21 persone che sono tuttora disperse. Insomma, questo è, lo sappiamo, il nuovo clima che abbiamo creato e dobbiamo imparare e in fretta ad adattarci, perché le nostre città devono diventare sempre più resilienti a questo tipo di fenomeni, noi stessi dobbiamo diventare più resilienti e pronti, quindi sapere anche cosa fare in caso di allarmi meteorologici, perché non ci siamo abituati, questo clima non c'è mai stato alle nostre latitudini o comunque sono stati eventi molto rari, mentre adesso sono diventate la nuova normalità climatica. Quindi, dobbiamo, oltre a smettere ieri di buttare qualsiasi tipo di gas clima alterante in atmosfera, dobbiamo adattarci a questo clima che è già cambiato e per il quale non possiamo più sicuramente tornare indietro. Va bene, cambiamo argomento e andiamo appunto alla questione Covid, che è un po' il tema principale della puntata di oggi. Tre giorni fa il governo ha deciso di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 ed è una decisione che ha fatto seguito al recente aumento nei contagi che si sono registrati nel nostro paese e che in Italia sono saliti attorno ai 2500-2800 contagi al giorno. Insomma, contagi, poi parliamo di tamponi positivi, ecco, poi non sappiamo qual è la reale entità dei contagi. Sono numeri abbastanza alti, anche se sono al di sotto di molti altri paesi europei e poi dobbiamo ricordarci che il numero molto alto di positivi al tampone oggi è frutto anche del numero molto alto di tamponi che vengono effettuati, che sono sempre ormai più di 100.000 al giorno, a volte 150.000, e per cui non si possono nemmeno paragonare i 2500 positivi di oggi con quelli del marzo scorso perché sono due ordini di grandezze completamente diverse. Basta pensare, per avere un termine di paragone più accurato, i morti giornalieri tra le persone che hanno contratto la malattia che sono molto meno, cioè parliamo sempre attorno a una ventina di persone e ovviamente è complice anche il miglioramento delle cure, però comunque questo è un dato che ci dà l'idea di quanto sia comunque diversa la situazione. Comunque, cosa vuol dire prolungamento dello stato di emergenza esattamente? Vuol dire che il governo, anzi il Presidente del Consiglio, si riserva la possibilità di continuare a emettere i dpcm, che sono i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi prevede che ci possano essere nuove misure restrittive sostanzialmente. Tra l'altro, un primo dpcm è atteso per mercoledì e sembrano in arrivo alcune misure nuove per i locali, come la chiusura anticipata per alcuni locali notturni. Queste misure sono abbastanza in linea con quanto stanno facendo più o meno i paesi vicini, ad esempio da domani a Parigi e in altri tre dipartimenti francesi saranno, diciamo che Parigi e questi dipartimenti saranno considerati zona di massima allerta per l'emergenza coronavirus dal governo e questo stato di allerta durerà almeno 15 giorni e comporterà la chiusura di bar e di altri tipi di locali, ma non dei ristoranti che invece potranno rimanere aperti. Le università dovranno dimezzare il numero degli studenti ammessi a partecipare alle lezioni e altri tipi di misure di questo genere. È pur vero che in Francia i casi di contagi giornalieri hanno l'altro ieri superato i 17.000, quindi comunque sono molti di più rispetto a noi, sono cinque volte tanto all'incirca. A Madrid invece il governo centrale ha disposto il lockdown parziale dell'intera capitale spagnola con il divieto di allontanarsi dalla propria zona di residenza, se non per motivi di lavoro e di salute e tra l'altro non si tratta solo di Madrid, ma anche dell'intera regione, insomma di altre nove città della regione per un totale di 4 milioni e mezzo di abitanti, con le autorità locali che in realtà hanno molto protestato contro questa misura perché sostengono che i danni all'economia e alle vite delle persone superino i benefici in termini di tutela della salute pubblica. Insomma, la sensazione è che i vari governi stiano cercando di trovare un equilibrio fra restrizioni e ripresa economica e lo stiano facendo forse in maniera un po' goffa in molti casi, in modo da non... l'idea è di non mandare nuovamente in tilt il sistema sanitario e quindi di contenere i contagi, ma al tempo stesso di non fermare le attività. E mi rendo conto che non è un compito semplice, anzi è un compito estremamente complesso e in situazioni come queste sicuramente se la nostra classe dirigente, e non parlo solo dell'Italia, avesse un'infarinatura di pensiero sistemico, lo so che sto diventando noioso perché ripete sempre le stesse cose come gli anziani, ma non farebbe male, ecco, invece di continuare a pensare a compartimenti stagni e dare l'impressione di muoversi un po' a caso, tipo l'ordinanza nella regione Lazio che impone da sabato, da questo sabato, insomma da sabato scorso, l'obbligo della mascherina anche all'aperto e anche se siamo da soli in mezzo a un bosco. Insomma, l'impressione è che si cerchi un po' di sparare nel mucchio per abbassare l'indice di contagio, quando però ormai avremo un po' di numeri interessanti da leggere che ci dicono dove e come avvengono i contagi, ad esempio, che avvengono quasi esclusivamente in posti chiusi, soprattutto in famiglie e sul luogo di lavoro, poco o nulla a scuola, avvengono anche all'aperto, ma soprattutto in casi di grossi assembramenti o eventi come matrimoni o cose di questo genere. E spesso avvengono ad opera, non in maniera uniforme, ma ad opera di pochi superdiffusori cosiddetti, come ha dimostrato recentemente uno studio pubblicato su Science, che insomma sembra indicare questo ruolo molto importante di poche persone. Insomma, non c'è ecco una diffusione omogenea, ma è una diffusione che procede per grandi balzi. L'indice di contagiosità di cui tutti parlano, il cosiddetto R0, ovvero quante persone in media ogni contagiato contagia a sua volta, non sembrerebbe essere poi così significativo o aiutarci così tanto a comprendere l'andamento dell'epidemia, mentre sembrerebbe essere più che devi comprendere il cosiddetto fattore K, ovvero quanto varia da persona a persona la contagiosità. E gli ultimi studi appunto ci dicono che varia moltissimo, e che poche persone con un'alta carica virale, magari partecipando ad eventi, sembrano contagiarne tantissime altre, mentre la maggior parte dei positivi non contagia quasi nessuno. Ecco, conoscere tutte queste cose e adottare un approccio sistemico potrebbe aiutarci a trovare soluzioni più efficaci, magari persino migliorative del sistema attuale in termini di resilienza o anche di benessere. Ma la sensazione è che, come al solito, si tratti, cioè, si stia trattando questa emergenza e il sistema come se fosse un gioco a somma zero di tante variabili indipendenti, in cui c'è da tenere a bada l'economia, la salute, l'ambiente, senza capire le interconnessioni fra tutte queste cose. Comunque, detto ciò, non voglio dilongarmi su questi discorsi che vi ho fatto qualche centinaia di volte, di volte, perciò io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Rome. Segno sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo, che chi si rassegna è perduto. Ciao!